Il 6 marzo si discuterà al TAR il ricorso presentato dall'ASBUC di Preturo per rendere esecutiva la sentenza definitiva del 2014 del commissario per il riordino degli usi civici che ha riconosciuto di natura demaniale alcuni terreni su cui oggi sorge il carcere di massima sicurezza alle costarelle a Preturo, una porzione di circa 40.000 metri quadri. Una vicenda lunga che ha avuto inizio nel 1982. A Villa Gioia si è tenuta una conferenza a stampa in cui il presidente e il vice dell'ASBUC Antonio Nardantonio e Nella Alfonsetti accompagnati dal tecnico Silvano Braccani hanno lanciato un ultimo appello all'Agenzia del Demanio affinché si riesca a trovare una soluzione prima di tornare nelle aule giudiziarie. Il rischio concreto? La demolizione di una parte di carcere e la conseguente chiusura dello stesso che l'ASBUC però vuole scongiurare. L'ASBUC ha formulato in questi anni delle proposte al demanio ma hanno detto i presenti non ci sono state mai delle risposte, in particolare l'amministrazione separata ha chiesto un riconoscimento fissato in circa un milione di euro togliendo tra l'altro anche gli interessi maturati dal 2014 sino ad oggi. Noi dal Semaccio purtroppo ci aspettiamo che il Tar applichi la sentenza o dica all'Agenzia del Demanio, imponga all'Agenzia del Demanio il rispetto della sentenza. E questo è gravissimo perché questo vuol dire demolire il carcere, chiudere il carcere che è il carcere di massima sicurezza, vuol dire perdere posti di lavoro, vuol dire perdere un servizio per la città e non ce lo possiamo permettere. Dal presidente Nardantonio anche un appello alla politica che in questi anni a loro giudizio è rimasta sorda affinché aprano anche loro stessi, il sindaco in primis, un'interlocuzione con il demanio. Come si riescono a trovare delle trattative per la caserma rossi, per tutte cose che interessano la città, cominciamo a muovere anche per le frazioni. Perché il preturo, sì, c'è l'amministrazione dei beni separati ma è molto ben visibile al comune dell'Aquila, è una frazione che è abbastanza sviluppata per il comune dell'Aquila. Soprattutto anche perché come amministrazione dei beni separati abbiamo una buonissima collaborazione col comune dell'Aquila per tutte le varie iniziative che facciamo sul territorio, ma pure come noi come amministrazione partecipiamo al piano neve, diamo una mano al piano neve. Diciamo che è una collaborazione ottima col comune, quindi speriamo che il sindaco, magari finita queste cose elettorali che impegnano un po' tutti, quindi questo periodo di ferie del comune riusciamo a trovare una soluzione auspicabile per tutti i cittadini e per tutti i territori. Grazie.